Una prova di frenata con una vettura dotata di ABS con le gomme termiche, gomme termiche che hanno ormai 5-6 anni di vita e però hanno ancora un battistrada sufficiente per essere sfruttate in sicurezza. Adesso procederemo alla prova di frenata che misureremo con le gomme normali, dopodiché applicheremo black traction e vedremo quanto sarà la riduzione nello spazio di frenata. Applicheremo il prodotto solo sugli pneumatici anteriori e perché in ogni caso sono i più importanti che determinano il pazio di frenata di un veicolo perché tutto il peso verrà caricato sugli pneumatici anteriori. Questo tra l'altro è un pneumatico quattro stagioni invernale ma che si può usare anche nel periodo estivo. Cerco di distribuire in maniera uniforme il prodotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.